Allora, il case che vedete qui con me oggi è un NZXT H1, un case mini TX in realtà molto interessante e che è nel mio studio da settembre, tipo fine settembre sì, e che non ho mai mai aperto. Potete vedere che ho letteralmente stato tagliato un pezzo di scotch ma poi non l'ho mai utilizzato. Doveva essere una build TX per questo mese, in realtà per il mese di febbraio, però di recente sono emerse delle indiscrezioni molto particolari a riguardo e ho deciso di commentarle in questo video. Per essere onesti però tutti i crediti vanno al canale americano Gamers Nexus che si è prodigato nel fare i test, portare avanti una serie di email in cui sono stati trattati malissimo da NZXT e che probabilmente perderanno ogni possibilità di collaborazione con questo brand per i prossimi anni, visto che appunto hanno dovuto fare tre contenuti per spiegare al meglio cosa stesse succedendo e portare l'azienda a prendere delle decisioni che appunto salvassero tutti i case e relativamente anche le case delle persone che hanno questo case. In quanto è stato prodotto in maniera non adeguata il riser per la scheda video che appunto può prendere fuoco in determinate condizioni. NZXT all'inizio ha ignorato il problema, dopodiché Gamers Nexus si è fatto avanti, ha portato tutta la situazione con test, ha mandato i loro test in anteprima ancora prima di far uscire i video a NZXT in maniera che potessero prendere le dovute precauzioni. E questi per ringraziare hanno semplicemente preso una parte delle loro ricerche, le hanno postate sui loro forum social vari per trovare una soluzione per dire alle persone del possibile problema di incendi, ma effettivamente sembra quasi che non abbiano fatto ricerche loro stessi in quanto lo stesso Steve si è lamentato poi di essere stato praticamente maltrattato da NZXT e di non aver ottenuto delle risposte valide. Ok, adesso vi faccio vedere qual è il problema. Oltretutto ci tengo a dire che io di mio questo case lo adoro come molti altri appassionati dell'University X, è un gran case, una grande soluzione perché include in un unico pacchetto alimentatore, riser per la scheda video, dissipatore a liquido e anche il case stesso per un prezzo di mi sembra 349€. Disponibile in due colori, nero e bianco, il problema è che letteralmente una decina o in realtà un paio di decine di questi case, molto molto belli, oltretutto hanno preso fuoco. Hanno preso fuoco perché è stato fatto male, come dicevo, il riser per la scheda video e all'inizio si credeva che il problema fossero le viti, perché NZXT è famosa per avere delle viti diciamo un po' malconce, molto spesso, sono delle viti troppo grosse per i buchi in cui si avvitano e che quindi porta spesso a masticarle, a letteralmente rovinare i buchi, cosa che in questo caso specifico ha portato a dei contatti con le linee a 12V del riser e successivi incendi. Io ovviamente ragazzi non ho le competenze per valutare correttamente tutto, perché sono competenze elettronica anche un pochettino più avanzate e quindi vi invito a guardare gli oltre 70 minuti di contenuto di Gamers Nexus e masticate bene l'inglese per capire esattamente quale sia il problema. La prima reazione di NZXT al problema è stata quella di prendere e inviare un piccolo pacchetto di viti in nylon per sostituire le due, anzi l'una che credevano loro essere incriminata, anche se poi dei test di Gamers Nexus si è scoperto che potrebbero essere entrambe in una qualsiasi situazione e insomma montare queste due viti al posto di quelle in metallo e la situazione in generale dovrebbe essere risolta. Il problema è che andando avanti con i test Gamers Nexus ha dimostrato che il problema reale è proprio il riser e che questo può prendere fuoco da un momento all'altro in caso di svariate situazioni che si possono creare, in caso di riutilizzo o semplicemente manutenzione o cambio di componenti. Ci tengo a dire che faccio questo video non per essere polemico ma semplicemente perché a tutti gli effetti questa cosa può prendere fuoco da un momento all'altro e quindi potrebbe oltre a danneggiare le vostre componenti, danneggiare il vostro tavolo, il vostro setup, danneggiare voi, danneggiare la vostra casa, insomma potrebbe prendere fuoco tutto letteralmente. Magari lasciate acceso il vostro computer a fare un download, questo per un motivo o per un altro prende fuoco, prende fuoco alla vostra casa o magari state dormendo con un pc di fianco, insomma non è una situazione divertente. Giustamente ragazzi io nel mentre ho richiesto un kit di sostituzione e devo dire che si è vista l'impronta di Gamers Nexus dal modo in cui NZXT ha comunicato anche con me cliente per la sostituzione delle parti. La prima volta che li ho contattati è stato a 16 giorni da quando sto registrando questo video e devo dire che la risposta è stata molto veloce. Il giorno dopo mi hanno chiesto tutte le informazioni pratiche, il mio indirizzo, il numero di serie, del case, bla bla bla, per mandarmi il kit sostitutivo delle viti. Mi hanno risposto in prossimità di un fine settimana, quindi ho preso il fine settimana, l'ho lasciato passare e lunedì ho mandato la risposta con tutti quanti i miei dati contenuti all'interno del ticket in maniera che mi potessero aiutare. Successivamente però sono spariti, che 4 giorni fa, da quando sto registrando questo video, mi hanno detto che sarebbero arrivate le viti in nylon. Però la cosa interessante è che si è voluto il tipo di supporto, perché sono passati da ti mandiamo solo le viti in nylon a ti mandiamo anche un nuovo GPU riser. Cosa che vuol dire che NZXT non è stata sorda alle richieste e diciamo in generale a tutti quanti i contenuti fatti da Gamers Nexus che si sono accorti che il problema non sono soltanto le viti ma in generale il riser che potrebbe causare incendi. Pensate se io da settembre l'avessi montato e per un qualsiasi motivo avesse preso fuoco e avessi bruciato la casa in cui sono in affitto, molto poco divertente. Ad oggi io sto aspettando il mio cambio di riser, il mio consiglio è proprio di spegnerlo, staccare la scheda video, staccare il riser e procurarvene un altro, possibilmente noto come di alta qualità. Nel mentre segnalate anche a NZXT con il form che vi lascio giù in descrizione che possedete un H1, che volete un ricambio e che vi arriverà il riser. Purtroppo come vi ho detto i tempi di spedizione e i tempi di assistenza sono molto molto lunghi, qui stiamo parlando di quasi 20 giorni soltanto per avere una risposta di conferma di una spedizione delle viti, neanche del riser che nel mentre sta venendo prodotto in una nuova versione da NZXT stessa. Quindi in generale il mio consiglio è di comprarne un altro e evitare di rischiare, anche perché come ho detto sono svariate migliaia di euro e dubito che la maggior parte di voi abbia assicurato il proprio computer. A NZXT si dovrebbe prendere comunque responsabilità dei rimborsi in caso di danni derivati dall'utilizzo dell'H1, ma per precauzione totale, come ho detto non c'è in ballo soltanto una sola ma di denaro, ma anche la vostra salute e la vostra sicurezza, vi consiglio di fare quanto ho detto e nel mentre di chiedere assistenza a NZXT. Fate molta attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video. Voi state su Mordentech, fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti. E in realtà appena risolvo tutti questi problemi penso mettere un altro riser, io vi porto comunque una build con l'H1 perché è un case che adoro, però prendete nota di tutto quello che ho detto. Salamusa! Salamusa! Grazie.